Mi sento di rivendicare l'assoluta estranità dell'ente che rappresento rispetto a questa bufera giudiziaria, tant'è che la gara della quale si discute era stata autonomamente annullata dal Comune ormai mesi fa e questo a prescindere da questa inchiesta. Quindi se ci sono poi questioni legate alla Regione, a dirigenti regionali, se c'è una partecipazione anche di qualche funzionario del Comune di Francavilla, questo non lo so, la magistratura lo deve accertare, ho piena fiducia della magistratura, ma quello che posso dire è che il Comune di Francavilla uscirà assolutamente indenne da questa vicenda perché nella sua piena autonomia aveva deciso di annullare quella gara, ripeto, per motivazioni che nulla hanno a che vedere con l'indagine, quindi serenità. Parliamo di un appalto per l'ampliamento del cimitero di Francavilla. Per la precisione parliamo di un project financing che riguardava la gestione e l'ampliamento del cimitero comunale. Il project financing è stato esperito da tantissimi comuni abruzzesi, primo tra tutti Pescana, mi sembra, Ortona, Montesilvano, sono tanti i comuni che hanno scelto questa forma e senza aver paura di affermare questo io penso che in futuro anche il Comune di Francavilla al Mare continuerà a scegliere questa forma ripubblicando una gara di project financing perché è la cosa migliore per i cittadini, è la cosa migliore per la città, in piena trasparenza e in piena legalità. Sindaco, in un eventuale giudizio il Comune di Francavilla potrebbe presentarsi come parte l'esa? Assolutamente no perché come ho detto all'inizio dell'intervista il Comune di Francavilla al Mare a prescindere dall'inchiesta aveva annullato quella gara quindi il Comune di Francavilla non ha nulla a che vedere con questa inchiesta.